E' stata una delle cose più belle che ho mai visto, ho lasciato un like assolutamente Ah regà, luna di notte, sto un po' in pigiama Ci sentiamo al concerto e vi ricordo che questo è Mattiz E se sta guardando questo video, salve Oh 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 Regà, regà sta succedendo qualcosa, sta succedendo qualcosa di pazzesco secondo me Oh, è il pianeta, guardate il pianeta regà, guardate il pianeta, guardate il pianeta lì, 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 lì Lì, lì, lì Oh, no vabbè, pazzesco regà Ci stiamo, ci stiamo a parlare da muti praticamente con i paletti dei morti, è fighissimo regà Eh, allora, sincero conosco poche canzoni, sincero Però l'ambiente è molto bello Ci mettiamo qua dietro insieme a lui E' molto figo come cosa, adesso dovrebbe spuntare il pianeta Ok, ok L'audio non so come sarà, ma è l'una di notte, non mi interessa sinceramente Uh, no vabbè Top regà, top evento 2020 Eh, figata, figata pazzesca Regà, dobbiamo far sì, dobbiamo far sì Che spettacolo mi stanca san botto Oh Senti come sfiglie Mamma mia raga, ma di che stiamo a parlare? È di games, qualità altissima raga Nooo, 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 nooo No, ma che è questa roba? No, non ci credo No, no Raga, ma che è questa nottina? Raga 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 ma che hanno creato che hanno creato raga guardate che spettacolo non ci credo non ci credo non ci credo raga 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 ma che hanno fatto non ci credo guardate le nike vabbè vabbè ma di che stiamo a parlare raga saltiamo a tempo dei bassi mamma mia raga cioè non so veramente che di io me ne aspettavo morentissimo come concerto cioè io mi aspettavo lui è bellissimo cioè io mi aspettavo lui piccolino sul palco invece guardate che hanno tirato fuori guardate che hanno tirato fuori guardate oh che sta fa che sta fa raga 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 oh oh che sta che cosa oh 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 mamma mia i vento hanno cacciato fuori questi raga che i vento hanno cacciato fuori questi raga aiuto non ci credo è bellissimo no vabbè no vabbè no a parte scherzi è bellissimo non lo vedo mai sta da fuoco tutto sta da fuoco tutto oh oh raga raga sta da fuoco tutto è esploso no non compri no no non capisco balliamo balliamo raga 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 ma che si sono inventati che hanno tirato fuori raga matti se lì c'è non andiamo a prendere Every time Regà Regà No, regà Ma che hanno tirato fuori Abbiamo tirato fuori Lo stavo a seguire E' bellissimo tutto ciò Regà Non c'ho parole Pazzesco, regà Pazzesco, si sono vincati Regà 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 No, no, io Sta a terra qualcosa laggiù Non lo so Regà Regà, ma che parliamo? Stiamo sotto il cielo Questo al 90% è Mattia Che sta girando Oh oh, è scomparso tutto No Cioè, regà Questi hanno cacciato fuori L'evento mondiale Più bello al mondo Per adesso Cioè, fino ad ora Guardate E' 12 Dio E' troppo bello Ragazzi E' troppo bello E' troppo bello E' troppo bello E' lui E' finito Finito così So contentissimo comunque Comunque è andata Comparai alla mappa vecchia Pinnagoli Che succede? Che si è rotto lo schermo Oh, dove stiamo? Un'altra canzone Dai Dai, non ci sto capito più niente, regà Il lunedì notte Non ci sto capito niente Mi piace sta cosa Cioè, mi sono rimasto veramente Guardate Che cosa hanno fatto Guardate che hanno fatto Regà Il rior evento di sempre Cioè, io l'ho paragonato A marshmallow Ma di che Guardate Che cazzo di grafica hanno fatto Non ho parole Non ho parole Ok? Ok Probabilmente succederà qualcosa adesso Che cosa succede? Che cosa succede? Il cubo Oh, mi hai sparato su tutto Buconero Buconero Sembra che stavano all'infinito Ma in realtà stavano fermi secondo me Oh no no no, c'è un buco Che sta succedendo? La farfalla! La farfalla! Sta giù le cinque Ritorna con la mattamecchia Ti prego Ti prego La mattamecchia Date per la mattamecchia Oh no! Oh no! Ehi, c'è un chiesco Oh no! C'è un chiesco Regà Oh mio dio Che cavolo Di evento Che cosa Ho appena visto Regà Regà non so che cosa è sembrato a voi ma questo per me è stato uno delle migliori cose che ho visto mettete un like a questo video assolutamente assolutamente è stata una delle cose più belle che ho mai visto lasciate un like assolutamente e utilizzate il codice creatore lollopollor e lo shop se volete ci vediamo in un prossimo video nella prossima live vado a letto che è l'una e il quarto ragazzi